Prestigioso riconoscimento per l'Istituto Cinematografico La Lanterna Magica, che ottiene in Italia il primo vincolo di tutela del patrimonio archivistico. Questo grazie alla qualità del materiale documentario conservato. L'Istituto Culturale nacque nel 1981. Possiede una fototeca di 50.000 immagini tra fotografie e diapositive, un fondo audiovisivo di 955 cassette e 200 diocassette di documentazione di seminari e incontri, 13 pubblicazioni monografiche, ben 1.400 pellicole tra film e documentari, di cui 150 relativi all'Abruzzo, 3.500 pezzi tra oggetti personali, foto, figurine e bozzetti della collezione Mesteri e Tecniche del Cinema, una collezione di 500 pezzi tra manifesti e locandine dagli anni 50 sino ad oggi, una videoteca con 6.500 pezzi tra film e documentari, un'emeroteca con 50 riviste specializzate dagli anni 70 sino ad arrivare ai giorni nostri e poi una biblioteca con oltre 4.000 volumi sul tema arti e scienze dell'immagine. Nel 2014 l'Istituto inaugurò anche un Museo dei Mestieri delle Arti del Cinema. Dopo il terremoto, l'Istituto da ente culturale è diventato un'impresa culturale, ha dichiarato Mercedes Calvisi, consigliere delegato della Lanterna Magica. C'era anche Rachele Colella della Sovrintendenza, che ha sottolineato la notevole valenza culturale di questo istituto. Il consigliere regionale Pietrucci ha parlato invece del coinvolgimento della Lanterna Magica nel progetto dell'Abruzzo Film Commission, arrivato all'elaborazione della legge. L'onorevole Pezzopane ha posto l'accento sul risultato raggiunto, frutto di un lavoro che parte lontano, un traguardo importante. L'Istituto può diventare così punto di riferimento per tesi, studi, ricerche e documentazione giudiziaria. Da Deramo è arrivata invece la proposta di costituire un contenitore comune per accogliere la biblioteca provinciale e l'Istituto della Lanterna Magica.